L'area verde di via Milazzo, zona 5 Torri, da oggi è stata ribattezzata Parco 3 ottobre 2013. Un parco dedicato a tutte le vittime delle migrazioni, come ricordo una data che contrassegnò una terribile pagina della storia del Mediterraneo con il naufragio di quasi 400 migranti che stavano per raggiungere Lampedusa. Pesaro da oggi imprime memoria indelebile a quella pagina di storia attraverso un parco dedicato e che è stato intitolato alla presenza di autorità quali questore, prefetto, sindaco, ma anche il direttore di Avvenire Marco Tarquinio e il presidente dell'Unione Comunità Islamica d'Italia, Yassin Lafram. Presente anche l'Associazione Libera nel 21 marzo dedicato alla lotta alle mafie, presenti soprattutto gli studenti dell'Iceo Marconi, veri ideatori e coordinatori del progetto, in una mattinata aperta dal concerto di Alexandre Lucien Paul Joyer. Il Liceo Marconi dal 2017 partecipa attivamente alle attività che vengono indette dal Ministero dell'Istruzione con un progetto che si chiama L'Europa Comincia Lampedusa. Quindi è dal 2017 che con gli studenti andiamo a Lampedusa e viviamo questa esperienza forte di formazione e portando ogni anno un gruppo di studenti che si va a formare con Amnesty, Amnesty, Medici Senza Frontiere, Emergency e tutte le varie realtà che lavorano e operano nel soccorso dei migranti. Da qualche anno il Marconi è capofila a livello nazionale di questa progettualità e quindi coordina un po' le attività e pertanto abbiamo deciso insieme alla Giunta Comunale e insieme alla Prefettura di intitolare questo parco a questa memoria che ormai è diventata una memoria significativa per la formazione degli studenti nel liceo. In quella notte a Lampedusa morirono quasi 400 naufraghi ma 155 si salvarono e 47 vennero soccorsi dalla barca di Vito Fiorino presente oggi a Pesaro. Io con altri 7 amici fra i quali una vostra residente qui a Pesaro eravamo fuori in barca e ci siamo ritrovati coinvolti in questa tragedia che ha segnato molto i nostri cuori e credo che ha segnato i cuori di tante persone. Questo è il mio impegno che mi sono proprio accollato di seguire e andare a incontrare questi ragazzi nelle scuole per coinvolgerli in questo bisogno di amore nei confronti delle persone uguali a noi.